Il mio comportamento, credere che il mio comportamento non contasse niente, che fosse una strampata. Una straballa, povera idiota. Vabbè, basta così, sarà ora che ce ne andiamo. No. Sì, vai. Ma io sono il benvenuto. Andrai dove vado? Andremo in un posto di mare. Se puoi dire sotto la torreta di un bambino. Beh, ce la siamo cavata bene senza il tuo aiuto prima di venire qui, e lo faremo tutti. Perché continui con il plurale? Sai qual è il tuo problema? Non apprezzi tutto quello che faccio per finché vi tratterai come l'ultima ruota del carro? No, vuoi andare con noi? Forse lo farò. Ti sei difeso molto bene. Grazie. Il polpettone è finito, l'hai detto per levartelo di torno. Questo sembra interessante. Due cammellate poter strutturare vicini intraprendenti. Che significa vicini intraprendenti? Significa solo che non potevano scrivere campo di battaglia devastato dall'antraga. Continuiamo a trattare? Allora, non per me. Allora, questa ris checking. Grazie a tutti.